Qua c'è la base segreta di Super Sonic, proprio dietro questa montagna, e praticamente io ho portato delle cose, ho portato l'armatura, che in realtà è molto poca, ho un'arma, giusto una spada e un piccone nel caso dobbiamo scapparcene, ho già fame, infatti devo consumare già un panino che già ne abbiamo pochi, e praticamente qua c'è scritto, non ci sono sederi negli alberi, ma ci sono i bottoni, io suppongo che quindi debba, esattamente, debba andare da questa parte. Questa è la base segreta di Sonic Oro, o Super Sonic si chiama, se io salto qua sembra un parkour questo, qua magari c'è una manopola, avete capito tutti come funziona, qua ci sono un sacco di segreti, ma non ci sono solo questi, tutto qua c'è un quadro, stiamo attenti, non c'è niente qua. Possiamo andare avanti e vedere cosa c'è qui, sono veramente, c'è lui, non dovevo venire qui, mi fa molto male, lui è proprio cattivo, lui è veramente malvagio, se mi faccio uccidere da lui muoio, e non va bene morire, non è bello morire, mi sta uccidendo, mi sta uccidendo, mi sta uccidendo, ok lo sto uccidendo io, lo sto, raga ho poco poco poco, ok cerchiamo un modo per uscircene da qua. Allora lui rispauna, lui, e questo è il problema, lui rispauna raga, cosa sto facendo? Raga, sì, cosa ho fatto, sono entrato qui dentro, mi sento così illegale ad averlo fatto, ma forse si poteva entrare, non lo so, il gioco sta crashando forse l'influenza di Sonic, o forse il mio pc che è scemo, oh no è di nuovo rispaunato, lo sapevo io, lo sapevo che sarebbe rispaunato, eccolo là. Allora, cerchiamo di uscire da qua, e no però continua a laggare raga, cioè se crasha cosa faccio io, mentre è proprio mentre mi uccide, via via, non ti conosco, io non so che tu sia, mi spiace, comunque ci possiamo vedere la prossima, vedete che lui si muove anche velocemente, via non lasciamolo, ok. Ok, giustamente arrabbiato perché sono entrato in casa, pure io, cosa mi aspettavo mai? Allora, vi do un indizio, laggava perché avevo messo il chunk al massimo praticamente, vediamo, spiamo cosa ha Sonic in casa, beh un bel niente devo dire, però qua c'è un ingresso da qualche parte. Ma questo è un altro, madonna ma raga quanti pertuggi ci sono, è assurda sta roba. Eh, ho paura, chissà se Sonic ci ucciderà oppure no. Eh, raga dove stiamo andando qua, perché qua stiamo veramente andando in un sederone. No, non voglio uscirmene, aspetta, non voglio uscire, raga, oh no. Avete capito? Allora qua, praticamente, c'è di nuovo Super Sonic, si è spostato evidentemente, però è potentissimo. Cioè, vabbè che io lo sto uccidendo in un qualche... no, mi sta uccidendo lui adesso, mi sta uccidendo... Mi sto uccidendo... no, mi sto uccidendo... Raga, mi ha ucciso! Ma sentite questi rumori, raga, oh mio Dio! Se volete indagare, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale e lasciate like, ciao!